Salve a tutti, in questo video vi propongo una divisione intera, meno 7 diviso 3. In particolare vedremo che il resto di questa divisione non è né 1 né meno 1. Partiamo prima da un esempio diverso, da un esempio in cui usiamo soltanto numeri positivi, quindi 7 diviso 3. Allora, come divisione intera, noi sappiamo che il risultato di questa divisione sarà 2 col resto di 1. Cosa intendiamo con questo? Intendiamo il fatto che il numero 7, che è il dividendo, può essere ottenuto come multiplo del divisore, quindi 2 per 3, aggiungendo però un resto, che in questo caso è 1. Possiamo sostanzialmente visualizzare anche sulla retta dei numeri questa operazione, quindi 2 per 3 è uguale a 6, quindi non basta ancora per ottenere il dividendo che è 7, quindi dobbiamo aggiungere questo resto, che è proprio uguale a 1. Notate che il numero 6 deve essere il più grande multiplo di 3, che però non supera 7. Quindi questo ci assicura che il risultato, il quoziente della divisione 2 non è 3, perché se fosse 3 avremmo 3 per 3 uguale 9, che è maggiore di 7. Questo chiaramente è qualcosa che si può generalizzare, quindi quando il divisore è un numero maggiore di 0, scrivere che la divisione tra A e B è uguale a un certo valore Q col resto R, equivale proprio a scrivere che il nostro dividendo A è uguale al quoziente per il divisore Q per B, più un certo resto. Attenzione che la cosa più importante però di questa, diciamo, uguaglianza è specificare che il resto, dato che Q per B è il più grande numero minore o uguale ad A, il resto allora di conseguenza sarà un numero maggiore o uguale di 0, ma minore del divisore B. Quindi andiamo a questo punto alla nostra divisione che vi avevo proposto inizialmente, cioè il numero meno 7, quindi questa volta dividendo negativo, diviso 3. Allora, il quoziente in questo caso è meno 3 e il resto è 2. Per quale motivo? Beh, per lo stesso motivo che abbiamo visto prima, perché il numero meno 7 può essere ottenuto moltiplicando meno 3 per 3 e aggiungendo appunto il numero 2 che è il resto. Questo lo possiamo visualizzare sulla retta dei numeri in questo modo. Meno 3 per 3 fa meno 9, però per raggiungere meno 7 dobbiamo spostarci verso destra di 2, cioè dobbiamo aggiungere 2, che quindi sarà proprio il resto. Quindi dire che il quoziente è meno 2 in questo caso sarebbe sbagliato, perché meno 2 per 3 fa meno 6, ma meno 6 è maggiore di meno 7. Quindi, di nuovo, è meno 9 il più grande multiplo di 3, minore uguale a meno 7, per cui questa è la giusta risposta, mentre questa è quella sbagliata. Quindi la conclusione appunto è che il quoziente è meno 3 e il resto è 2. Se vi è piaciuto il video, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciarmi dei commenti che possono aiutarmi chiaramente a migliorare il canale. Grazie a tutti.